Tempo. Tempo che scorri rapido, senza mai riposo sugli ieri, sull'oggi e sul domani, senza mai confini. Tempo che ti addensi sulle nostre vite e ci invecchi un po' ogni giorno. Tempo in cui ognuno è in cammino con tanti altri sulla scena della vita. Tempo che ci derubi dei momenti felici, delle persone e degli affetti più cari lungo l'esistenza. Tempo che manchi sempre, così prezioso e a volte tiranno da dedicare a chi ami. Tempo di valutazioni, di resoconti sul valore dell'esistenza umana, sull'essenza della vita. Tempo attuale di incertezze, di tumulti, di restrizioni e di svilimento dell'essere umano. Tempo di riscoprire veri essenziali valori, di perseverare nel bene, perché si è sempre in tempo per fare del bene. Tempo di rimboccarsi le maniche e agire nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente dove viviamo. Maria Teresa Bonifazio, di Ortovero, in provincia di Savona. Scrivo versi per chi ama, sui muri, sui calzoni, sulle carte, sulle mani, sui parchi e sui manifesti. Scrive.